San Castrese Presente anche il sindaco di Marano, Angelo Liccardo Che preghiera possiamo fare a San Castrese per la città di Marano? Che il contatto con la città, con il territorio, con le cittadine sia sempre più stretto e sia un contatto anche quindi sacro quindi che si ritorni un po' anche ai vecchi valori, ai vecchi punti di riferimento religioso, di credo perché effettivamente si crea un contatto proprio sano della città Ogni anno sono tantissimi i fedeli che rinnovano l'amore rispetto a San Castrese Che rappresenta per voi San Castrese? Un esempio? San Castrese è la nostra cultura e come tale dobbiamo comunque preservarla è la storia di Marano e noi comunque non dobbiamo permettere che tutto ciò si veda E per noi è tutto E sono da 63 anni che ho fede in San Castrese Perché? E' l'educazione che abbiamo ricevuto Ma niente, intanto che noi ci teniamo molto e ogni anno facciamo, sempre ci teniamo proprio a essere presenti di questa cerimonia, di questa cosa continua